ciao mitici video di unboxing e di recensione di questa telecamera anche che mi hanno mandato in regalo per unboxarla e recensirla l'unboxing è questo si prende si apre e si va a scoprire una telecamera dall'aspetto plasticoso ma guardate tutta la recensione perché veramente vi anticipo il prezzo di questa telecamera 39 dollari prime per qualcosa di veramente sorprendente la qualità prezzo mi ha davvero sorpreso ma mi ha sorpreso anche proprio la qualità in se stessa perché un 1080 ottimo con questa telecamera che abbiamo già visto con la possibilità di girarsi a 360 gradi la possibilità di mettere una memoria per registrare in continuo e poter rivedere il remoto con la sua applicazione alimentata e con un adattatore a parete qualora ci servisse la sua staffa si può utilizzare facilmente ma molto più facilmente la possiamo appoggiare vediamo che c'è la possibilità di utilizzare internet è preso da via cavo ma funziona altrettanto bene con internet preso tramite wifi qualora ci sarà la password basterà di girare la password nell'applicazione molto molto facile da installare questo è il cavo lungo non l'ho misurato ma credo un paio di metri per poterlo alimentare e cavo altrettanto lungo se decidiamo di dare internet via cavo vi dirò anche un bel cavo interessante anche il caricatore usb che consuma davvero poco quindi basta semplicemente un ampere per alimentare questa videocamera ragazzi vi faccio vedere l'ho posizionata qua momentaneamente è molto bella perché può girare praticamente tutto intorno quindi può fare posso da casa farla direzionare che guarda in questa parte questa altra parte chiaramente la parte sopra che ruota e e c'è le luci infrarossi se io decido di parlare parla e parla molto forte esce l'audio da qui a differenza delle altre telecamere che ho da esterni qui la voce è proprio molto nitida e molto molto forte ha la possibilità di collegarsi con il cavo ma l'ho collegata col wifi e metti semplicemente la password del tuo wifi e si collega molto forte la qualità è 1080 quindi ero rimasto male perché avevo letto hd e invece non è un hd ma è un 1080 quindi molto buona per di più è come se avessi un mega grand'angolo perché oltre che guardare a destra e sinistra può guardare verso l'alto e verso il basso e quindi puoi fargli guardare verso l'alto verso il basso chiaramente è questo che si sposta e questo qua che ruota c'è la sua applicazione nella quale puoi anche visionare altre telecamere con altre caratteristiche telecamere da esterno e tutte quante della stessa marca tutte quante visionabili dalla stessa applica no stavo leggendo le caratteristiche dice che puoi visionare anche telecamere di altre marche sempre con l'applicazione di anche azione la qualità audio è molto buona anche in ascolto quindi se vuoi ascoltare la stanza riesce ad ascoltare benissimo tutti i dialoghi che vengono fatti nella stanza se invece che ne so c'è il figlio gli devi dire alessandro esce l'audio è molto forte e nitido quindi è veramente stra buono l'applicazione è stata facilissima e qui vi faccio vedere l'applicazione che si chiama mai anche questa vado direttamente alla telecamera vedete che si vede tutto il salone che è lungo più o meno una decina di metri c'è la possibilità da applicazione di fare il pc tutto zoom e toccando l'applicazione in questo caso sta ruotando fisicamente la telecamera quindi io ho il telefono in mano e in questo caso sto ruota sto ruotando la telecamera a destra e sinistra notate che se va all'interno diciamo dell'armadio e si mette in modalità bianco e nero mentre se noi la fermiamo qualche secondo dove c'è abbastanza luce si spengono i led e diventa modalità giorno molto a colore è possibile farla puntare verso l'alto completamente e guarda completamente verso l'alto quindi immaginate che se ce l'avete in alto è possibile farla puntare verso il basso completamente oltre il destra e sinistra quindi ha una grande capacità di muoversi in questo momento sto guardando l'applicazione con il telefono in verticale ma mettendo il telefono in orizzontale diventa chiaramente schermo intero e si vede molto di più. Allora diamo uno sguardo all'applicazione se c'erano varie telecamere avremmo visto varie telecamere c'è centro di notifica puoi chiedere di avere una notifica credo quando ci sia un movimento la cartella dove magari ci stanno le registrazioni ma quelle registrazioni ci sono se metti dentro la scheda di memoria vediamo come poter aggiungere altre telecamere basta semplicemente fare lo scan del codice qr che si trova al di sotto delle varie telecamere ragazzi forse questa è una telecamera nuova non l'hanno ancora messi in amazon it e comunque vi metto amazon.com dove si può comprare e poi metto anche il link di anche di amazon it dove sono disponibili delle telecamere con simili tipo questa fatta a palla che hanno delle caratteristiche anche superiori ma che costano leggermente di più. Ora fatto la prova di cambiare stanza essendo collegato lo stesso wifi è bastato semplicemente collegarlo a un'altra presa di corrente e spostarlo e in due minuti è cominciato a trasmettere dalla nuova stanza è impossibile allo stesso modo però modificare anche wifi e password wifi e cambiare completamente casa magari possiamo portare al mare a vigilare su una casa che abbiamo al mare o anche in campeggio ad esempio diamo un ultimo sguardo all'applicazione vedete che c'è l'allarme tantissime possibilità di personalizzazione possiamo anche far scattare l'allarme solo in determinate fasce orarie bene link amazon in descrizione anche a presto a presto Grazie.